Un po' più di respiro è Antonio Alfonso Redskind Riverland, questo stallone francese, lui parte con 6 e 51. Comunque un grande Giacomo Bassi, due giri perfetti, grande concentrazione, un ottimo campionato il suo. Male che vada, può chiudere in quarta posizione, ma andiamo a vedere Antonio Alfonso. I cinque tempi, caldo che si sposta dalla parte destra, viene avanti, il ritmo è buono, quello di Antonio, ancora dalla parte destra il cavallo, vediamo la tavola, un po' di controllo. L'Oxer su Fosso, che sfiora con un posteriore, la doppia gabbia, il verticale, i mezzi ci sono, l'Oxer centrale. Uno, due, tre, quattro, calma per questo numero otto, ancora un salto per Antonio Alfonso, dovrebbe rimanere nel tempo. E la chiusura, con una penalità, chiude a 7 e 51 Antonio Alfonso, c'è podio per lui, al momento la medaglia d'argento assicurata. Quando? Quando?